Dottore Di Gregorio, c'è molta confusione e rabbia fra i cittadini che sono in attesa di avere i contatti con Lusca. L'Asp sta cercando di prendere provvedimenti, in un certo senso i primi li ha adottati, quali ce li spieghi? La rabbia dei cittadini è comprensibile perché anche io da dirigente pubblico mi devo spogliare, sono pure io un cittadino, ci mancherebbe. L'azienda ne fa ammenda e è consapevole di questa situazione, sta cercando di reagire in maniera tempestiva e veloce organizzando con tutti gli attori messi in campo per consentire alle Lusca di poter snellire e smaltire tutti questi ritardi che si sono accumulati, continuando a fare solo i tamponi a domicilio. Con questi numeri non era più possibile assicurarlo e quindi si è decisi di attivare tutti i drive-in o drive-thrug come li vogliamo chiamare in vari punti nodali della provincia di Trapani. Questo ci consentirà in pochi giorni di recuperare tutte quelle persone che aspettano di essere quantomeno testati. Grazie Dottore Di Gregorio, buon lavoro. Grazie a voi.